E' indubbiamente una delle notizie gossipare più in voga del momento, e come poteva essere altrimenti, considerando che qualcuno è finalmente riuscito a mettere il tanto temuto guinzaglio allo scapolo d'oro George Clooney. Come ben informati sicuramente sapranno, si tratta dell'avvocatessa anglo-libuanese Amal Alamuddin, che l'attore hollywoodiano tratta da vera principessa. Secondo il Sun, infatti, in attesa delle nozze, George ha sorpreso la propria fidanzata, regalandole una gita fuori porta nel Surrey, celebre contè inglese, nota come location della serie Downton Abbey. L'attore avrebbe dato ad Amal 10 minuti per fare le valigie, prima di prendere un taxi al volo. Lei l'ha trovato super romantico, ha rivelato una fonte al Sun, adora il fatto che lui sia imprevedibile, e la visita a Downton Abbey è stata la ciliegina sulla torta di quelle ore decisamente folli. Del resto, era cosa risaputa che George fosse un uomo da sposare, e ora che la data si avvicina, l'attore ne dà l'ennesima conferma.